Allora, benvenuti, vediamo adesso come organizzarci per fare uno script per usare la penna, questa penna, il builder pen per questo è un piccolo circuito che accende una luce quindi prima di tutto cerchiamo di rendere questa stanza un pochino più scura e per farlo andiamo in tab quindi andiamo in... ok, ho congelato quello andiamo in this room, andiamo nelle proprietà della stanza nel general setup, vedete che c'è current mode e io qui direi che mettiamo stand runner, outer space prendiamo una cosa abbastanza scura, tropical sunset wild night, però forse è l'outher... no, allora dark night prendiamo wild night, ok, che è abbastanza scura allora una volta che abbiamo scelto, facciamo apply settings quindi abbiamo la stanza che è stata modificata vediamo che è abbastanza scura quindi vediamo che possiamo usare delle lampadine per illuminarla quindi andiamo a creare una lampadina quindi facciamo F con la penna in mano andiamo a open palette e cerchiamo qui su search cerchiamo una spotlight, che è una lampadina che illumina un punto, una specie di cono quindi prendiamo questo spotlight lo costruiamo, quindi lo clicchiamo vedete che c'è questa lampadina qua la ci muoviamo un attimino di lato questa qua e la giriamo, quindi facciamo la rotate rotate, selezioniamo e facciamo puntare verso il basso e vedete che fa questo fascio questo fascio in realtà adesso lo facciamo un po' più luminoso per vederlo meglio quindi impariamo a configure configure clicchiamo sulla nostra lampadina e vedete che qui possiamo controllare l'intensità della luce la facciamo molto luminosa e anche quanto grande è lontano e qual è l'angolo che dipinge vedete che facciamo tale che abbia 90 gradi quindi abbia un impatto abbastanza evidente l'obiettivo nostro è quello di vedere chiaramente che la luce sia accesa quindi questa è una luce accesa e per vederlo bene ho dovuto mettere innanzitutto la luce esterna a buio perché se no non si capiva bene e poi come vedete ho ampliato le varie cose ora avete visto che questa luce quando l'ho messa ha un sacco di cosine qua tanti pin questi pin li posso modificare nel senso che posso andare in F e con un wire posso vedere cosa sono nel senso che vedete che qui abbiamo prima abbiamo configurato quindi andiamo in alto l'intensità questo qui è l'intensità vedete questo cerchiamo qui è un pochino più sconto allora quello di sopra è l'intensità questo qua questo sotto è il range questo qui è il colore e questo qui è il fatto di essere acceso e spenta quindi ricordiamoci che questo rosso qua è l'acceso e spenta e questo dietro c'è l'angolo a noi ci interessa l'acceso e spento in questo momento allora vogliamo accendere o spegnere questa lampadina quindi come facciamo per accendere o spegnere andiamo a prendere un oggetto di questi quindi andiamo in create andiamo in open palette andiamo in gadgets e prendiamo il dunque mat clips credo e prendiamo il variable chips variable chip questo è qualcosa che ci permette di impostare un valore quindi facciamo lo rezziamo integrato e con il configure andiamo a clicchiamo vedete che c'ha lui aveva tre morsetti uno rosso uno verde e uno blu e facciamo che il rosso sia 0 il verde lo mettiamo a 1 e il blu lo mettiamo ad esempio a 2 ok allora in pratica questi sono i valori 0, 1, 2 quindi se noi adesso andiamo a puntare lo 0 qui dove c'è l'accensione rossa quindi lo mettiamo adesso qui c'è chito 0 ma in realtà non essendo collegato lui assume il valore di default che è acceso ma se noi facciamo F e con wire andiamo a prendere questo 0 e lo attacchiamo all'on off vedete che non c'è più il fascio di luce non c'è più il fascio di luce l'abbiamo spenta quindi adesso facciamo andiamo sempre qua vedete noi siamo sempre in wire se abbiamo collegato c'è X possiamo togliere e vedete che si è accesa quindi noi sostanzialmente possiamo vedere se un nostro circuito elettronico accende o spegne la lampadina collegando l'output su questo morsetto ora il nostro obiettivo adesso facciamo un brevissimo circuito logico che faccia l'end di due ingressi e gli ingressi saranno questi qua sempre che abbiamo progettato magari ecco lo muoviamo quindi facciamo move muoviamo questo integrato un po' tutto a sinistra e ci mettiamo un end un end che fa l'end delle porte logiche quindi per farlo andiamo in create open palette e usiamo il questo qua l'end allora l'end creiamo un end ok e allora mettiamo l'uscita di questo end col wire lo mettiamo all'accensione della nostra lampadina quindi su non off vedete che adesso è spenta allora per essere spenta vuol dire che questo vale 0 infatti auto vale 0 quindi noi adesso proviamo a mettere vedere un po' dei valori quindi questo qui è 0 quindi se noi attacchiamo due ingressi ad esempio per fare l'end di due dati a 0 quindi prendiamo questo dato qua e lo mettiamo qua e poi prendiamo anche questo 0 lo mettiamo qua e questo integrato fa 0 e questo integrato fa 0 and 0 che fa 0 vedete che la luce è spenta se noi invece togliamo questo e in questo pin gli mettiamo un 1 qua allora praticamente l'uscita è diventata quindi questo qui ingresso ingresso 0 e questo qui 1 quindi è ancora spenta ma se noi a questo punto gli cancelliamo questo e gli mettiamo il valore 1 anche nel primo pin vedete che si è acceso la lampadina quindi noi abbiamo fatto un circuito logico che fa l'end dei suoi due ingressi analogamente possiamo fare se noi togliamo questo collegamento e gli mettiamo un qualche cosa che ci dice c'è una cosa interessantissima open palette c'è una cosa che si chiama trigger quindi facciamo trigger trigger volume trigger volume è un qualche cosa che quando si accende praticamente quando qualcuno ci passa attraverso quindi lo selezioniamo vedete questo è il trigger volume lo possiamo ingrandire perché possiamo fare lo scale e quando è scalato possiamo ingrandirlo un po' quindi tutto qua e poi lo facciamo un po' più in alto un po' più a destra insomma per ottenere un trigger tutto bello e poi andiamo in realtà a configurare questo trigger quindi andiamo andiamo sempre di fronte qui ce l'abbiamo sulla destra facciamo configure e configuriamo il trigger il trigger diciamo che cosa deve deve triggerare deve triggerare se ci passano dei player piuttosto che non che ci sono degli oggetti quindi noi diciamo ok ok quindi adesso che keeps tracks o players qui tutti gli oggetti che entrano fanno scattare questa cosa a questo punto cosa facciamo andiamo a prendere l'uscita di questo oggetto che sono queste le tre uscite e vediamo cosa significano quindi facciamo fwire colleghiamo la when exit zone total current in zone e when entering zone gli diciamo total current in zone 0 questo e questo output lo colleghiamo non all'angolo non alla cosa ma lo colleghiamo all'on off allora vedete che adesso adesso facciamo così disabilitiamo l'uso della penna per togliere lo scripting di mezzo e quindi facciamo z per togliere la penna e quindi vediamo la nostra attività vedete che qui non c'è nulla non c'è nulla apparentemente ma c'è tutta la nostra circuiteria la nostra circuiteria in realtà noi praticamente ecco dunque dovremmo entrare praticamente nella zona in cui c'è il nostro non ce la facciamo entrare oppure qualcosa non è andato bene quindi riprendiamo la nostra penna la nostra penna era abbiamo detto 1 penna ok rivediamo tutta questa cosa qua quindi qui proviamo a vedere se con la penna ecco vedete che adesso qui siamo e si è accesa quindi praticamente entrando nella zona triggerata si accende il nostro nostra penna come vedete tutta la circuiteria e anche la luce non la vedete quando siete in gioco normale quindi questi sono tutti scritti nascosto allora per capire dove è la zona facciamo così facciamo un F costruiamo e costruiamo un bel cubo cubo e questo cubo lo mettiamo praticamente ok quindi lo ecco quel cubo messo lì facciamo F lo facciamo lo muoviamo tra l'altro notate che sto lavorando tutto senza senza visore quindi lo mettiamo praticamente qua più o meno nella zona dove c'è il trigger facciamo il scale scale serve per perché adesso ce lo facciamo una specie di pavimento eccolo qua ecco era solo per definire dove fosse praticamente la zona di trigger che prima non l'abbiamo trovata quindi a questo punto se noi lo buttiamo vedete che il ah sì perché c'era qualcosa nell'area effettivamente comunque lì c'era praticamente il nostro trigger quindi se noi adesso lo eh perché è sotto il trigger allora riprendiamo questo 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 oggetto qua lo muoviamo eh un po' verso il basso ecco in modo tale da non far scattare il trigger vedete quindi a questo punto noi sappiamo che quando ci muoviamo e siamo più o meno sopra sopra quello magari dobbiamo allargarlo un po' scale ok ok vabbè si scala un po' è un po' difficilotto comunque sappiamo che è così facciamo z quindi va via quindi adesso noi se ci avviciniamo e andiamo nella zona dove c'è il codoggetto no vediamo che non si illumina ah ma perché va triggerato sugli oggetti non sugli avatar perfetto allora infatti avete visto che si è triggerato con l'oggetto ma ne vogliamo farlo triggerare con gli avatar quindi ho commesso l'errore quindi andiamo ancora in modalità quindi con uno ci prendiamo la nostra penna maker pen e configuriamo questo trigger e dobbiamo praticamente dirgli ok players quindi se diciamo players dovrebbe funzionare a questo punto credo vediamo un po' se è vero è infatti vero vedete che se mi avvicino se mi allontano funziona e ha questo effetto se io butto via il coso e vado nella zona dove c'è il trigger vedete che abbiamo tenuto il trigger quindi appena entro nella zona triggerata si accende e si spegne la lampadina questo è una cosa che adesso sembra anche un pochino complessa ma è molto interessante perché vedete che il riconoscimento è istantaneo e avviene sempre quindi non dipende dal lag quindi chiaro che se qui ci sono veramente tantissime persone magari regisce con un po' di ritardo ma in linea di principio regisce bene quindi questo è l'essenza e quindi lo rivediamo il circuitino che ho fatto che è semplicemente quello di aver messo la trigger con la cosa in mezzo che agisce quando c'è qualcuno degli oggetti dentro e che fa scattare la lampadina ora questa cosa qua sembra una banalità ma è possibile dirgli al trigger di scattare solo se entra un oggetto con un determinato tag e quindi noi possiamo per dire mettere un tag specifico ad una chiave e mettere questa informazione dentro dentro il trigger e quindi per esempio possiamo dire che una stanza si accende quando entriamo solo se abbiamo un oggetto magico in mano oppure ancora meglio ancora più semplicemente un escape room che mettere questo trigger in prossimità della serratura di una porta e poi noi ci avviciniamo e ci mettiamo la chiave dentro per mettere nel trigger quindi questa è un'idea veramente interessante allora questa è solo la superficie dei circuiti ma spero di avervi fatto capire come osservare insomma il valore dei pin volendo in realtà ci sono anche altri modi per vedere i pin ma lo vediamo o eventualmente ve lo vedete separatamente a più va